Partita dai due volti questa sera, secondo te l'Inter non è stata all'altezza della Juventus o ha sprecato un'occasione? No, siamo stati anche più alto della Juve, in primo tempo abbiamo mostrato che dovevamo vincere 2-3 a 0, non abbiamo potuto segnare le occasioni che abbiamo creato purtroppo e ci siamo stati pagati in secondo tempo. Secondo te in che cosa è mancata l'Inter, anche perché fatica nei big match, però spesso sembra che abbia le possibilità di fare di più? Ovviamente c'è l'opportunità di fare di più, però non è che entriamo in campo pensando che questo anno non abbiamo vinto contro le squadre grandi, è solo una statistica, noi ogni partita entriamo per vincere, non ci importa se giochiamo contro la Juve o contro un'altra squadra, noi sempre entriamo a vincere la partita. Ci sono ancora 25 partite, voi avete ancora la sensazione che sia tutto completamente aperto? Sì, perché noi creiamo che possiamo migliorare, creiamo che possiamo vincere le partite rimaste e siamo sicuri che alla fine della stagione possiamo parlare positivo. Un'ultima, domani ci sarà il sorteggio, un traguardo meritato dopo tanto impegno, che squadra ti aspetti? Ce n'è una che ti piace di più? Ovviamente che dobbiamo giocare con tutte le squadre, onestamente non è che c'è una squadra che direi che voglio prenderla, però noi siamo inter e dobbiamo giocare contro tutti se vogliamo vincere qualcosa.